Consigli fantacalcio giornata numero 9, sono finiti gli impegni delle nostre nazionali e si torna a pensare al nostro fantacalcio. A proposito, se stai pensando invece agli scambi ed è un ottimo momento, vatti a ribeccare il video che è uscito ieri, è un video da 2 ore 40, lo so, è lunghissimo. Credo che sia il video più lungo mai fatto sul fantacalcio, però è tutto tagliato, ci ho perso un sacco e ci sono i capitoli. Quindi tu puoi andare a premere, ad esempio, vuoi andare a vedere un giocatore del Napoli, basta che premi il capitolo che parla del Napoli, che durerà una decina di minuti e ti vai a vedere cosa ne penso di quel giocatore e come gestirlo. Per cui cerca il video, lo trovi nel mio canale. Se stai cercando un'app che ti aiuti a schierare al meglio la formazione giornata per giornata, ti consiglio Fanta Algoritmo. Fanta Algoritmo è un'app fantastica perché durante la stagione ti dice proprio in base alla tua squadra a chi schierare. Ti fa la formazione e di fatto ti dà gli indici di schierabilità della tua squadra. Inoltre durante l'asta invece ti aiuta andando a dirti chi prendere, quando chiamarlo e quanto pagarlo. Trovi Fanta Algoritmo, il link qui sotto in descrizione. Ricordati di utilizzare il codice sconto FantaGOL20. Se decidessi che il piano base gratuito non sia abbastanza per te, se sei più ambizioso e vuoi un aiuto più costante dall'algoritmo, vai al link e utilizza il mio codice sconto. Ehi, guarda che lo so benissimo che è presto per far uscire questo video. La prima partita sarà sabato pomeriggio alle 15, però per miei impegni lavorativi non posso farlo uscire dopo questo video. Ma ti dico una cosa, ci saranno un sacco di live questa settimana per cui correggeremo il tiro se ad esempio un domani, che ne so, Lavrovic. Ma perché devo portare la sfiga a Lavrovic che ce l'ho al Fanta? Ti dico già che la prima live sarà oggi, mercoledì, dalle 16.45 su Stadeo. Stadeo è un'app gratuita dove possiamo parlarci, puoi proprio farmi le domande a voce ed è tutto gratis. Trovi il link a Stadeo qui sotto in descrizione. Ci sarà una live su Stadeo anche giovedì dalle 14.15. Invece su YouTube la live sarà sabato dalle 13 e dopo andremo sulla piattaforma cinese. Poi non puoi dire che non ti aiuto, eh. Verona Napoli, chi andiamo a schierare nell'Ellas? Ti dico, considerando il fatto che il Napoli comunque è una difesa solida e l'Ellas ha un attacco che non sta facendo un gran che, qui si parla proprio di scommesse. Come scommesse, Ngonge, Lavrovic. Ci sarebbe Folo Ruscio da ex, ma è proprio un iper scommesso, un azzardo. E un altro quasi ex è Faraoni che ha rifiutato l'ultimo passaggio al Napoli. Chi non metterà assolutamente tutta la difesa? Evitiamo tutta la difesa, compreso Montipò che comunque sta andando abbastanza bene. Eviterei anche Duda se non fossi proprio alla canna. Nel Napoli, spazio sicuramente a Politano. Vara Schelia, Di Lorenzo, Olivera. E in questo momento Simeone è la punta titolare del Napoli, per cui non puoi non metterlo. Se vuoi te lo indico da scommessa e do il posto a Vellischi. Sai che non ne dico più di cinque fissi a squadra. Rai parto scommesse però, non dimenticarti Raspadori, perché fin qui ha fatto meglio Raspadori. Il vero è che come punta preferisce Simeone, però Raspadori mettilo se ce l'hai. E un altro come scommessa che metterei, nonostante abbia un po' deluso, Caglius. Oh, nel Napoli puoi andare praticamente in all-in, perché anche in difesa puoi mettere tutti. Torino-Inter. Partita che credo che non ci darà tantissimi gol nel Toro. Ora, io metterei giusto Zapata. Come scommessa Vlasic, perché comunque si incontra una gran difesa. Si potrebbe provare come scommessa anche da ex Bellanova e volendo Scurs. Qui ti indica sec titolare con Radonici in panca. Io credo che alla fine invece metterà Radonici. Radonici come scommessa è un po' un'azardo solo perché hai il dubbio che giochi o meno. Diciamo che se tu hai il sentore che alla fine Radonici vada a giocare, cioè se per caso Juric in conferenza dirà che lo metterà titolare, come scommessa potresti metterlo. Nell'Inter, permesso che tu puoi andare in all-in nell'Inter, ti dico anche che però il Toro non prende tantissimi gol. Quindi gli attaccanti li mettiamo comunque. Ti dico Cialanorlu, Dumfries di Marco. Anche se in realtà se ne devo dire solo 5, facciamo che tolgo un attimo Dumfries e ti dico Sommer. Però, ti ho detto, vai in all-in. Come scommesse, Carlos Augusto da subentrante, perché mi ha fatto una grande impressione nel Bologna, ti dico anche Frattesi come scommessa, perché scommessa era titolare lui al posto di Mkhitarya. E occhio a quel Sanchez da subentrante come azzardo. Tra l'altro su Instagram venerdì uscirà il mio post con la mia top 11 e 3 riserve, le mie scommesse e i miei azzardi. Ma in più avrò altri due grandi ospiti che faranno la stessa cosa. Quindi sarà un post imperdibile. Uscirà venerdì alle 13. Ma intanto seguimi, Fantagol, Tartino Basso, Fantacal. Sassuolo, Lazio. Nel Sassuolo vai di Mimo Berardi. Pinamonti, la Oriente. La Oriente te lo metto come scommessa, ma va messo. Va messo anche by Rami, ovviamente. E come scommessa ti indico Boloca. Chi non mette? Consigli, piantagli una croce sopra. Ti direi praticamente tutta questa difesa. Qui ti indica Ferrari. Io penso che potrebbe trovare posto Viti. Però con la Lazio non li andrei a mettere comunque. Nella Lazio, non so perché i mobile l'hanno fatto piccolo piccolo, ma sarà un errore un attimo di caricamento del mio browser. Mettiamo Ciro Immobile. Tra l'altro Ciro Immobile è su Starks. Starks è l'exchange dove compri e vendi token ufficiali con tanto di licenza dei calciatori. Puoi farci delle plus valenze vendendo i giocatori al momento giusto. Ma se tu ritieni di essere un ottimo fantallenatore, un bravo talent scout, qui puoi fare dei guadagni anche in altro modo. Infatti ci sono due giochi su Starks. Nel primo gioco, a seconda delle prestazioni che fa un giocatore, nelle partite di campionato vengono bruciati un tot di token del giocatore. In questa partita di strefezza sono stati bruciati 1300 token. Nella partita prima 2900 e così via. Meno token ci sono nel giocatore, più valgono. Quindi qui entra in gioco la tua ottica da talent scout. Se vai a prendere un calciatore giovane che secondo te può darti buone prestazioni nel tempo, vedrai il suo numero di token diminuire e quindi il suo valore aumentare. Per esempio tra i calciatori giovani vedi Nassi, Frattesi, Colombo, Scamacca, ma anche ad esempio Antonucci, Vortea, Marchizza, insomma ce n'è. Il secondo gioco che sta per partire invece è un gioco proprio in stile fantacalcio. Vai a schierare 5 giocatori e a seconda dei punteggi che farai, concorrerai in classifiche settimanali, mensili e stagionali con premi altissimi. Entra su Starks, passando al link che troverai qui sotto in descrizione avrai per te in omaggio 15 euro al tuo primo deposito. Primo deposito che deve essere almeno di 20 euro. Ah, in descrizione trovi anche un tutorial sul mondo Starks. Detto che Ciro Immobile si deve sbloccare, questa secondo me sarà la partita giusta per lui. Mettiamo lui, mettiamo Zaccagni, un altro che è un po' che non ci sta dando dei bonus. Poi ovvio Felipe Anderson, Luis Alberto e qui ti direi di dare uno spazio a Guendonzi. Vero che si gioca al posto con Camada, partita per partita, ma vedo meglio Guendonzi. Chi non metterei qui? Non metto Romagnoli perché comunque non sta avendo un grande andamento e da quel lato ci saranno le incursioni di Berardi e appunto anche Marosic. Pro Vedel farei fatica a metterlo oggi. Come scommessa Castellanos e ti direi anche Vecino. Potrebbe essere paradossalmente una partita in cui lui subente prenda un bonus magari nell'ultima mezz'ora. Roma-Monza, nella Roma io andrei con il Gallo Belotti alla caccia di gol per un suo riscatto personale. Lukaku, mettiamo anche Awar che sta avendo una gran bella media e Spinazzola. Poi darei anche uno spazio a Mancini. Scommessa quella del Sherawi subentrante. Da non mettere sinceramente, non c'è nessuno che proprio ti dico quello non metterlo. Non mi fa impazzire lui Patricio, però è questo il massimo che non metterei. Nel Monza, spazio a Colombo, tra l'altro anche lui giocatore di Starks, anche Mancini. Ciuria come scommessa per il riscatto. Andiamo sempre con Pessina, col Pani si devono mettere. E io ti dico, trova uno spazio al Papu Gomez se ce l'hai. Questa può essere veramente la sua partita. Io lo metto come scommessa, comunque ti entra come centrocampista qui al posto di Vignato. Come azzardo c'è sempre quel Chiericoplus che aspetto che si sblocchi. Di sconsigliati sinceramente ti dico solo D'Ambrosio. Perché comunque non è molto in linea come il suo andamento che aveva all'Inter. Vabbè che il monte è il monte, l'Inter è l'Inter. Però non è che stia facendo grandi cose. Potrebbe avergli portato benefici questa pausa. Prima di andare a Bologna a Fiorosinone ti do l'ultimo annuncio per questo video. Se vuoi fare un fantacalcio gratuito con me, anzi due, entra su Fanta Eleven. Trovi il link qui sotto in descrizione. Partecipa alla Lega Iscritti Fanta Goal. E anche alla mia Lega Fanta Goal Champions sulla Champions League questa. Sono due Fanta all'istone gratuiti con premi. Ma se sei ancora più ambizioso su Fanta Eleven ci sono due Fanta all'istone a pagamento con ricchissimi premi. C'è il Fanta sulla Champions. Ci puoi vincere la maglia di Vinicius Junior autografata, dei tablet, delle maglie da calcio Felpe. Ho anche il Fanta sulla Serie A. Qui c'è la maglia di Mbappé autografata, PC, televisori, bici elettriche e quant'altro. Tantissimi premi. Iscriverai una squadra che costa solo 19,90€. Ma se utilizzerai il mio codice sconto Fanta Goal risparmierai il 20%. Quindi ti costerà un po' meno di 16€. Entra subito su Fanta Eleven. Bologna a Frosinone. Nel Bologna Orsolini va messo assolutamente. Sono quasi tentato di metterlo in top 11 ma metti anche Ferguson. Poi troverei uno spazio per Calafiori. Anche questo è su Starks. Skorupski devi metterlo. Io ti dico reparto scommesse. Qui ti indica in Doge. Le sta giocando un po' tutte, è vero. Però io non mi rendo su quel Carson e secondo me entrerà e farà bene in questa partita. Quindi io metterai Carson come scommessa. Poi in Doge se ce l'hai si può mettere. Nel Frosinone io metto Chedira. Oggi potrebbe andare a bollare magari su rigore. Sole, Mazzitelli, Marchizza, altro uomo Starks poi me la finisco. E troverei un posto anche a Regnier. In realtà qui di sconsigliati non ce n'è né da una parte né dall'altra. Top. Marchizza l'unico dubbio che ho è proprio per il fatto che avrà Orsolini dal suo lato. Però vedo peggio Monterisi sinceramente perché Marchizza magari mi dà più profondità. Scommessina. Qui ti indica Garretano. Io invece ci vedrei bene caso. Salernitana a Cagliari. C'è il nuovo allenatore nella Salernitana. Vediamo come si comporterà. Comunque ad ogni modo io metterai Dia che vedrai che tornerà adesso a titolare. Candreva. Castanos. Troviamo anche uno spazio per Mazzocchi che lo so che ti sta deludendo. Te lo do come scommessa. Dai lo do come scommessa. Uno spazio a Coulibaly e a Giovane. Ma qui in questa Salernitana oggi, oggi, solo oggi, puoi andare potenzialmente in all-in. Anche dietro perché comunque sia il Cagliari ha segnato pochissimo. Finora, come vedi, solo tre gol fatti dal Cagliari. Vero che la Salernitana fin qui ha avuto la peggiore difesa del campionato. 17 gol presi. Quindi una media di oltre due gol a partita. Ma infatti per questo dico nel Cagliari. Oggi non lasciare giù Petagna. Oh, non fare mica l'erroia di lasciarlo giù. Petagna si mette. Si mette Luvumbo. Zappa. Mettiamo anche Nandeth. Anche se io penso che il rigorista sarà Petagnone. E quasi quasi come scommessa Affi che se la gioca con Augello. Atalanta. Genoa. Nella Dea andiamo con Lukman Scamacca. Si mettono tutti e due. Anche questo Uomo Starks. Poi, poi, poi. Zappa Costa. La caccia di un bonus che sta mancando. Mettiamo anche Ruggeri. Con Meines mancherà. Però io ti dico scommessa Paselic. Più che De Ketela. Nella difesa della Dea. Quello che mi convince di più in questo caso è Kolasinac. Nel Genoa. A me se non concesso che la formazione sia proprio questa. Io Reteghi lo metterei perché con le grandi e l'Atalanta. Nel tutto è una grande. Trova motivazioni. Cioè va meglio con le squadre più forti che con quelle più deboli. Quindi Reteghi si mette. Gudmundsson è un momento straordinario. Provo a dare uno spazio a Malinoski. È un ex col dente avvelenato. Cioè oggi Malinoski devi provare a metterlo se ce l'hai. Ma te lo immagini Malinoski che bolla e vai ad esultare in faccia a Gasperini. Come scommessa. Uno spazio lo lascerei a Torsby. E stop. Ti sconsiglio oggi Bani. Perché ho idea che vada a prendersi un giallo. E non metterei neanche il portiere del Genoa. Milan Juventus. Ricordati il like scaccia sfiga. Sia se tieni una di queste due squadre. Sia per il tuo fantacalcio. Ora nel Milan. Mettiamo Pulisic. Come fai a non metterlo? Metti Giroud. Leao. Reinders. Che non ci sta dando bonus. Ma fidati che è molto utile. Ora il fatto che Teo sia squalificato. Ci apre un portone ad usare Florenzi come scommessa. Infatti se ce l'hai come scommessa mettilo. Anche se è contro la Juve. In questo big match però io lascerei fuori due difensori centrali. Tomori ciao. Lascio fuori Sportiello. E stop. Come scommessa. Un'ocaforte che sta facendo molto bene. Nella Juventus. Torna Vlaovic. Torna Chiesa. Mettiamoli tutti e due. Kostic. Rabiot. E Mecchini. Scommessina. Miretti che dovrebbe essere titolare. Viste le note vicende di Fagioli. Tra l'altro apro e chiudo una parentesi. Aspettiamo che escano delle sentenze. Aspettiamo di sapere veramente cosa hanno fatto i giocatori. Prima di condannarli. Senza avere la certezza della gravità dei fatti. Ok? Perché? Faccio un esempio. Che non lo so. E non sarà così. Se Florenzi va a scommettere sul calcio. Su partite del suo campionato. E ancora peggio. Sulle partite del suo Milan. È una cosa grave. Molto grave. Se Florenzi va a scommettere sul baseball. O scommette ad esempio sulla Ligan. Chissene. Ho detto Florenzi per buttare un nome. Che non c'entra niente con questa inchiesta. Chi non metterei? Tutto. Tutto. Questo battaglione qua. Quindi Shevni. Anche se sta facendo abbastanza bene. Bremer. Bremer. Qui con gli ingressi di Leao. È vero che lui ha marcato gente. Coi contro. Attributi. Ma non lo metterei. Rugani. Come scommessa. Quel Milik subentrante. Che sta facendo bene. Udinese. Lecce. Nell'Udinese. Io metto Samarvic. Metto Lucca. E poi. Reparto scommesse. Toven. Lovric. Voglio mettere anche Camara. Che comunque sta facendo abbastanza bene. Non metto Ebosele. Perché gioca dal lato di Strefezza. E neanche Pereff. Soprattutto Pereff no. Con Strefezza. Soffrirà tantissimo. E oggi ti direi anche Silvestri. Con Christovic davanti. Non lo metto. Nell'Ecce. Si Strefezza. Si Christovic. Mettiamo anche il buon Baschirotto oggi. Anquist. E ti dico anche Falcone. Scommessina questo Dan subentrante. Oh e perché no? Oggi mi prende bene Sansone come scommesso. Non so. Ce l'ho lì. Fiorentina e Empoli. Derby Toscano. Che chiude la giornata lunedì sera. Ora. Nella viola. Vai con Zola. Gonzales. Uomo Starks. Buonaventura. Poi ti dico. Cagliude e Biraghi. Biraghi un po' in discussione. Perché c'è anche Parisi. Ecco. Parisi mettilo comunque come scommessa. Perché è un ex dell'incontro. Chi non mettere. Cioè. Puoi andare praticamente in all in. Perché abbiamo contro una squadra. Che ha fatto fin qua un gol. E che ne ha presi 16 eh. Nell'Empoli. Io. Ciccio Caputo me lo rischio. Baldanzi. È quello più performante di sta squadra. Provo a dar fiducia ancora a Marin e a Ebuei. Cioè. Se c'è qualcuno che possa fare un assist. Per quelli da davanti. Che non sia Baldanzi già. Sono Marin ed Ebuei. Per il resto. Poca poca roba. Qualcosina malè. Ma insomma. Ecco. Malè tra l'altro. Se non sbaglio. È pure un ex della partita. Se vuoi metterlo come proprio azzardo. Da ex. Ora l'ati indica cancellieri. Io credo che se la giochi. Cambiaghi. E cambiaghi. Come scommessa lo metterei. Chi non mettere. Beriscia. Evitiamocelo oggi. Anche Luperto. Che come media. Insomma. Si è messi male. Cacaccia. Rischio giallo. Sicuro. E forse eviterei anche Ismail. Questi erano i miei consigli. Per la non aggiornata. Al fantacalcio. Mi raccomando. Fammi sapere. Che ne pensi di questo video. Con un bel like. E scrivimi un commento. Se vuoi un consiglio. Ricordati di partecipare a tutte le mie numerose live. Per avere una mia risposta dal vivo. Quindi più accurata. Più fresca. Perché lo so. Che far uscire il video il mercoledì. È presto. Ma non posso fare altrimenti. Ciao. E buon fanta. A tutti. Oh. Vatti a vedere il mio video. Sugli scambi. Che ci ho messo 5 giorni a farlo. Vatti a vedere il video.